Buongiorno dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e la variante di Valico. Impianto di distribuzione del carburante chiuso per guasto all'area di servizio di Badia Alpino in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze riduzione di carreggiata per un mezzo pesante fermo tra San Casciano Sud e Bargino in direzione Siena. Sulla statale Trebis Tiberina scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra l'incrocio di Madonnuccia Poggiolino e quello di Pieve Santo Stefano Sud in direzione Nord. Poverse in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!